c'è qualcuno sì qualcuno c'è no da me vado via ok se per caso l'anda ah lo vedo ok è qui dentro sono due mi sa sono morti quindi ti pure il pump se vuoi stavano qui fuori mi sa sono tutti sotto mi sa sai si stanno combattendo tutti vogliamo andare hai uno scudine più ok andiamo eccoli prendo quello che sta distante distante il mio amore one morte mia ah mi sono dimenticato che qua sta il coso eh si ora è modificato la helen non è lootata la c non è lootata il rosso si qui ok sotto lo vediamo è morto ok ok siamo noi sotto i due morto uno scudo vedete l'ha portato due io sto continuando a volare io sto continuando a volare ok da me loot leg c'è cerco di venire subito devo buttare giù perché non ho tanti maz devo prendere ground no non posso prendere ground è un team intero si sto venendo eh tu si allora sto giocando safe perché ho poche massa morto una ok se qualcosa sui vortici riesco a fare morto un altro un altro potete farlo a qualcuno morto un altro morto ma no è un altro team io sono andato delle band sono morta vieni qua stanno qua stanno qua prendile ma tutti qua sono arrivati comunque è un altro team si 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 perché sta ancora nell'afro lì a terra ok c'è qualcuno mi sa qui uno scudo se vuoi è un medikit però posso portare io ok medikit la porta allora da vederlo da andiamo in safe a sto punto guarda un attimo che la L ah il medikit ok io c'ho questo per te ok morto un team non ce l'ha fatto mi è pure a me pure ha fatto cadere si è ridicolito sono sotto potenza Matto uno Niente, a me non mi tappo qui Ok, io mi sto bloccando su lei Matto un'altra Buona Potete sparare a esto, what the fuck Sì, anch'io Wait, what? Oh, cazzo Yeah Cosa sono i Klinger? Sì, sono le bombe quelle appiccicose Ah, da dietro Ma non mi hai sentito così? Nemmeno io Lo vedo? Me l'ha attaccato, ma ti rendi conto? Madonna mia Ma quanti cazzini aveva? Dove stanno? Stava qui sotto a 30 Sta buildando Ah, così lo vedo Stiamo da sopra No, mi fanno cadere Stanno a ovest Case, quasi case Stanno close Guarda che sono qui sotto Sono quattro Sono quattro Tre certinelli in ottimo Ok, uno ha fatto cadere Io sono uno v1 Morti mio team, morti mio team Mi shield arriva Una terra Una terra, un'altra terra Sono due Ok, ok Due secondi Ok Un'altra terra Manca il messicano Da da me era la donina No skin L'ho appena uccisa Ma tutti qua stavano Vince, vince Eh, eh Mannaggia la miseria No, non ce la fai Non ce la fai Capisci? No, non ce la faccio Cioè ce la fai Ma prendiamo danni Meglio di no? Non posso, non posso No, meglio di no Vai, vai, vai Eh, scusami Madonna mia Mi hai laggato? No, ecchi Niente Gioga, gioga Va bene, va bene Non ce la fai L'unica becca è che non ho molti mazzi Sette 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 Questa c'è il barrel Non mi piace Stai calmo lì, baby Stai calmo Attento a quelli sotto Grazie Grazie Di shot che anche non spari Quando devi Sette 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 Oh, sopra No, niente Sette 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 buono devi scendere dietro ancora ma che ne so vincere cazzo ha questo tutto qui proprio non voleva morire non voleva morire non avevo più maz finito tutto ora io non so se tu ci hai mai fatto caso ma nel mio stream ci sta una emote che è il numero 7 questo è il perchè ho fatto questa emote perchè ormai mi perseguita io invece ho 19 c'è stato si perchè un mese di filo ho fatto solo 19 team non uscirà fa 20 video